Una fotografia, un ancora nel passato. Una fotografia, un ancora nel passato. Un'immagine che trasporta la memoria. In un tempo ormai dimenticato, una fotografia può far battere il cuore. Scatena forti emozioni, lacrime, che si diramano nelle lunghe rughe. Una fotografia trasporta la mente in un viaggio inaspettato. È come una barca a remi che solca le lunghe acque di un conosciuto fiume. All'incontrario, e se un uomo non può ammirare le foto di quando era bambino, Egli ha dovuto abbandonare per sempre il suo passato così lontano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.